Assessore ha sentito le richieste dei sindaci, quale potrebbe essere la soluzione? Piove sempre meno e quando piove fa quei grandi acquazzoni che non consentono più all'acqua di penetrare nel sottosuolo e di immagazzinarsi, ma scendono velocemente a valle. Allora la soluzione secondo me è quella di incamerare quest'acqua prima che arrivi a valle, prima che arrivi al mare, con una serie di piccole dighe, di pulizia degli invasi esistenti, una serie di situazioni che non per forza devono prevedere un unico grande invaso così come qualcuno ha preventivato, che viene anche contestato eccetera, ma individuare dei punti dove si può immagazzinare l'acqua, in parte anche i punti già esistenti come Tavernelle, San Lazzaro, Il Furlo, pulire quindi gli invasi, immagazzinarne di più, in modo che durante l'estate quando l'acqua manca, come in questo momento, si rilasciano a poco a poco e il fiume non muore. E il costo dovrebbe essere sostenuto dalla regione in questo caso? Ma il costo è un costo che va ovviamente spalmato, qui è l'ambito territoriale ottimale che deve guidare il processo insieme alla provincia, parlando di questa provincia. Poi è chiaro che dobbiamo far fronte con fondi anche regionali, ma non solo regionali, ministeriali, ma anche europei. I fondi per progetti di questo genere si riescono a intercettare, però sono periodi lunghi, bisogna che ci muoviamo velocemente ad individuare le miglior possibilità che abbiamo in questa provincia, perché veramente qui da un anno all'altro è sempre più un dramma di approvvigionamento idrico. E nel frattempo a chi spetta la pulizia degli invasi? I tre invasi lungo il Metauro, quello del Furlo, quello di San Lazzaro Fossombrono e quello di Tavernelli a Colle al Metauro sono gestiti oggi da Enel. Io ho già incontrato Enel 20 giorni fa in provincia insieme all'ambito territoriale ottimale e loro ci hanno detto che sono disponibili a intraprendere questo percorso, iniziando dal Furlo, dove c'è già un progetto diciamo così pronto, per rimuovere 280.000 metri cubi di fanghi o ghiaia che si è depositata sul fondo di quell'invaso. Lì rivedrò i primi di settembre per cominciare a procedere a rendere attuale questo tipo di iniziativa, perché l'acqua va, ripeto, immagazzinata e non fatta arrivare a mare.